Musica Siamo qui con Marina Garibaldi, sti benedetta del secondo matto del migliorio di scenografia dell'Accademia Santa Giulia. Noi abbiamo partecipato a questa manifestazione che si chiama La Stimola del Cinema a Brescia. L'Accademia Santa Giulia in particolare ha collaborato nell'allestimento delle vetrine, in questa manifestazione collateriale che si chiama appunto Vetrina Creativa. E tu sei stata un po' diciamo l'anima, l'hard egretto di questa manifestazione. Come si è sviluppato il concept rispetto all'idea che gli organizzatori avevano detto questa cosa? Noi abbiamo chiamato in modo il nostro progetto il cinema più di 7 vite. Volevamo ricordare che non solo gli abbiamo definito la settima arte, ma fare un riferimento anche al detto Gaffian più di 7 vite per ricordare quanto il cinema sia ancora capace oggi di raccontarci storie, di farci sognare, di evolversi insieme alla tecnologia, alla società. È proprio un linguaggio che ho saputo creare immagini, miti, frasi celebre che sono rimaste nella nostra mente. E questo da più di 100 anni, insomma, non smette di farci sognare. Noi abbiamo quindi voluto concepire una storia del cinema in breve, quindi partendo anche da film più vecchi e più lucenti, cercando di privilegiare con il cinema di voi. Volevamo non solo con la vetrina e l'allestimento incontrare i titoli in particolare, ma anche associare il film meno conosciuto per dare una seconda chance, diciamo. I ragazzi che hanno lavorato con te insieme a dentro, ma sono tutti studenti, quali tutti studenti dell'Accademia Santa Giulia, li vogliamo nominare giusto per dare un'idea del progetto, quanto è stato importante e fondamentale. Certo. Hanno collaborato i studenti del Vienio e del quadro di scenografia, quindi Mario Gioletti, Elena Pari, Stefano Ragazziani, Stefano Bottini, Fiziano Ramea e i ragazzi del terzo anno di scenografia di Sanici e Andrea Pini. In più abbiamo avuto la collaborazione dell'intero team di Macchina Impresa.